Un'infrastruttura importante che deve trasformarsi da nicchia per amatori a vera e propria risorsa sociale ed economica per Fanno e le Marche. Ne è convinto l'onorevole di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto Enzo e Valtero Miccioli quale componente della nona commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera. Con lui i direttori generale e regionale Enac Alessio Quaranta e Silvia Ceccarelli, il sindaco di Fanno Massimo Seri, il presidente di Fanno Un Fortuna e Massimo Ruggeri il capitano dei carabinieri Maximiliano Papale e l'amministratore di Igo alla Vision Academy Davide Cecchini. L'investimento riguarda principalmente la pista di atterraggio per migliorare le prestazioni e la sicurezza ma non sono esclusi interventi sulla palazzina e sugli hangar. È arrivato il tempo di dare nuova vita all'aeroporto ma come ha detto lei onorevole è necessario un gioco di squadra? Sì sicuramente per i nostri territori è giunto il momento di lavorare finalmente squadra, di fare rete e così stiamo cercando di fare dalla Camera dei Deputati quindi dal Parlamento nel caso dell'aeroporto di Fanno fino al Comune di Fanno magari passando tramite Enac e la Regione Marche. Ci sono però delle questioni da risolvere come ad esempio quelle che riguardano i terreni aeroportuali? Sì proprio in questi giorni ho organizzato un incontro e un sopralluogo con il direttore generale di Enac ossia l'Aleante Nazionale per l'Aviazione Civile affinché potesse conoscere e toccare con mano le potenzialità dell'aeroporto della terza città delle Marche. Il direttore Enac si è subito dimostrato interessato e pronto a divertire alcuni milioni di euro su questa infrastruttura. Ma secondo lei ha delle reali potenzialità? Beh l'aeroporto di Fanno anche a detta dello stesso direttore Enac è uno degli aeroporti minori più interessanti d'Italia. Ha una posizione strategica ossia posizionato al centro della penisola quindi con un raggio d'azione molto molto interessante. Si trova a pochi passi dall'uscita autostradale a fianco di un'importante arteria come la Fanno Grosseto, come la strada statale 3, la Flaminia e a ridosso della statale Adriatica. Quindi è un sito dalle grandi potenzialità e quindi dobbiamo riuscire a trasformare questa infrastruttura da sito di interesse per gli amanti del volo, invece a volano per l'economia e il turismo della città di Fanno, del territorio della provincia di Pesorbino e dell'intera regione. Per l'investimento quali saranno i prossimi passi? L'Enac è pronta a investire importanti risorse sull'aeroporto, previa però la risoluzione di una problematica legata alla proprietà di alcune particelle di terreno dell'area aeroportuale, le quali sono rimaste ancora in capo al Comune anziché al Demagno e quindi fin quando rimarrà questa situazione Enac non potrà investire i fondi. Nell'incontro che ho agevolato in questi giorni il sindaco di Fanno ha preso l'impegno di risolvere questa questione ormai annosa nei prossimi mesi. Quindi spero, Simona, di tornare di fronte a lei insieme al direttore Enac e al sindaco Oseri per parlare di investimenti concreti sulla città di Fanno.